Assessore, si parla della prossima estate, oggi viene presentata in comune questa iniziativa per promuovere l'immagine di Montesilvano a livello turistico. Riteniamo che la forte vocazione di questa città va tutelata, soprattutto in questo momento di crisi, è una delle risorse più importanti di questa città. Quindi oggi proponiamo questo video insieme ad Alberghiamo, degli albergatori e non solo, ma anche altre iniziative che noi stiamo portando avanti. Qual è la Free Children's Card, qual è la partecipazione, ma non solo la partecipazione, il fatto che la bandiera verde quest'anno verrà consegnata nella nostra città, fanno sì, denotano la sensibilità che giustamente questa amministrazione ha e deve avere nei confronti del turismo. Avete realizzato voi questo video sulla città di Montesilvano per questa iniziativa che vuole promuovere il turismo a Montesilvano, di cosa si tratta? Questo video è una proposta, raccoglie l'idea proprio del video marketing territoriale e comunque permette di raggiungere la maggior parte delle persone attraverso le immagini. Quindi l'idea era quella di proporre questo video facendo vedere quello che si può vivere a Montesilvano, dall'alba al tramonto. Grazie.